. Roma, paura nel metro B. Forte esplosione, ma era solo un guasto. Tanti passeggeri hanno segnalato l'esplosione, ma si trattava di un guasto alla linea aerea che aveva provocato fumo e scintille. . Roma, 8 giugno 2018, momenti di panico tra i passeggeri della metro B di Roma dopo aver udito forti esplosioni nella stazione Policlinico. . Subito si sono attivate le forze dell'ordine, pompieri e 118, ma si è poi saputo non si era trattato di esplosioni, ma di un guasto alla linea aerea della metro che avrebbe provocato fumo e scintille. . Il servizio è stato sospeso tra Castro Pretorio e Monti Tiburtini. . Oggi a Roma c'è anche lo sciopero dei trasporti. . Ai momenti di panico ha fatto seguito la rabbia dei passeggeri della metro B, rimasta comunque bloccata in un tratto del tunnel a causa di un guasto tecnico. . . Una ragazza lamenta, dopo 20 minuti fermi con i vagoni stracolmici hanno fatto evacuare camminando sul binario. . . Un ragazzo che si trovava alla stazione Policlinico ha raccontato, ho sentito due esplosioni ho pensato a un attentato. . 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